L'ospedale Kidicmo di Trebisaccio ospiterà due presidi, l'ospedale per acuti e l'ospedale di comunità. Quello per acuti avrà i reparti di medicina, chirurgia con posti letto sia ordinari sia in day surgery, sala operatoria e pronto soccorso insieme ai servizi di cardiologia, radiologia, anestesia e laboratorio analisi. La radiologia sarà dotata di nuove attrezzature, risonanza magnetica aperta, tac e mammografo. Il pronto soccorso sarà interessato da lavori di ristrutturazione. Nell'ala nuova sarà allestito un ospedale di comunità con 40 posti di residenza sanitaria. Sono già stati fatti sopralluoghi ed è in corso la progettazione e la verifica strutturale. Al sopralluogo per dare il via alla riapertura, il commissario ad acta per l'attuazione della sentenza del Consiglio di Stato per la riapertura dell'ospedale Dora di Francesco, venuta direttamente da Roma, dei responsabili dell'area tecnica e strutture sanitarie sia dell'ASPO provinciale con il responsabile Antonio Capristo che della Regione Calabria rappresentata dall'ingegnere Pasquale Gidaro accompagnati dal sindaco Alex Aurelio insieme al vice sindaco Nicoletta Tufaro. Il primo cittadino ha voluto ringraziare tra gli altri il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto per l'impegno nel suo ruolo di commissario ad acta della sanità calabrese che sta portando avanti garantendo il virtuoso esplicarsi di tutte le sinergie per il raggiungimento del risultato finalizzato a garantire il fondamentale diritto alla salute nei territori.